Piero Millina è nato nel giorno di Natale del 1958, un giorno particolare. Un allenatore che Campli, è vero, ha rimesso in carreggiata, ma che Millina con molta umiltà non rifiutò di allenare riprendendolo dai bassi fondi della Serie C per portarlo ad una finale storica per i Farnesi che avrebbero potuto contendersi la Serie A fino all'ultimo minuto di una stagione lunghissima. Un risultato sportivo mai registrato da quelle parti. Bravo Piero Millina, seppur personaggio scomodo perché trasparente, uomo vero ancora prima di uomo di sport che sa valutare ciò che lo circonda, sa apprezzarlo come prenderne le distanze, nella grande città come nella periferia teramana dove è più difficile e dove in tre anni ha conosciuto molto di buono e vero, ma anche molto altro di meno buono. Un vero gentleman, Millina, spesso scomodo, ma col quale riesci a dialogare meglio se con lui non ti trovi d'accordo così come dovrebbe sempre essere. Siamo certi che la sua carriera abbia patito e non poco l'essere un personaggio vero che non ama compromessi e che o accetti ed apprezzi per quello che è, oppure con il quale non approcci proprio. A Campli Millina non ha trovato l'America, anzi, ma un territorio fatto di gente onesta, che lavora ed opera semplicemente. Gente che a lui piace e alla quale ha comunque rimproverato spesso di non essere vicino ai suoi come i suoi avrebbero meritato. Ha tirato a tanti le orecchie, ma ha anche saputo tessere lodi, ha puntato il dito contro la politica quando era da condannare e non ne ha mai ereditato nulla. O forse sì, qualche promessa non mantenuta. Eppure non ha mai mollato, ha ottenuto risultati importantissimi diventando uno di loro, quasi un camplese ad honorem. A questo punto verrebbe da chiedersi, e domani cosa accadrà? Se l'ho conosciuto un po', non se lo è ancora chiesto. In fondo per lui conta ancora gustare una buona pizza a tavola, magari con le persone giuste. Del domani se ne parlerà, prima o poi, forse poi.